Da oggi la campagna torna in zona arancione. Dopo un mese e mezzo di rosso riaprono i negozi di abbigliamento e calzature per adulti, i parrucchieri ed estetisti. Da oggi riprende anche la didattica in presenza per la scuola materna, elementare e media, ma anche per le superiori che garantiscono l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza. Novità anche per la ristorazione, il governo Draghi ha deciso di privilegiare gli spazi aperti e dunque laddove possibile i ristoranti potranno accogliere i clienti. A metà del mese di maggio riapriranno le piscine all'aperto, dal primo giugno dovrebbero riaprire anche le palestre. Nonostante la zona arancione l'avvio per l'ennesima volta, si spera ad una parziale normalità, il presidente De Luca continua a non essere soddisfatto sulla ingiustificata e vergognosa disparità di trattamento riguardo la distribuzione dei vaccini. Finisca la vergogna relativa alla distribuzione dei vaccini alla Campania. Questa è una cosa indegna di un paese civile. È un atto, come ho detto io, di delinquenza politica. Hanno fatto finta di non sentire, come avete visto, ieri tutti zitti. Un presidente di regione dice che questo è un atto di delinquenza politica, ma non avete sentito. Lo ridico adesso, vediamo se si convincono. Alla Campania sono stati tolti, a ieri, a stamattina, 211 mila vaccini che avremmo potuto dare ai nostri concittadini e alle categorie economiche. Però tutti zitti, perché c'è questo patto di trasversale, di imbroglio trasversale. Ma noi siamo orgogliosi di essere una regione trasparente e rigorosa.